Ciao ragazzi e bentornati, siamo in antivigilia di Roma Inter ma di questo parleremo domani perché oggi vorrei concentrarmi su Benjamin Pavard che a detta di qualcuno è costato troppo e veramente pensate che 30 milioni per un giocatore che nel 2025 sarebbe andato a scadenza, che ha vinto tutto con il Bayern Monaco, che è campione del mondo con la Francia e quel mondiale lo giocò da protagonista, siano veramente tanti? Quindi parliamo di un giocatore forte, un giocatore con una certa personalità e che a oggi mi sento di dire è uno dei leader di questa squadra, non solo per come si è amalgamato con i compagni, non solo per quello che ha mostrato in carriera ma anche per come si è calato nel mondo Inter. Quando lo prendemmo dissi subito che per come gioca l'Inter di Inzaghi è il braccetto perfetto, perché voi dovete intendere i due braccetti non solo come due difensori ma anche come due valori aggiunti nella fase offensiva, perché sia Bastoni che Pavard fanno i terzini, fanno le mezzali per come si inseriscono senza palla, tanto è vero che il gol è arrivato da un suo inserimento. E' vero, la Juve lascia un buco enorme lì in mezzo ma Pavard è al posto giusto, nel momento giusto e propizia il gol vittoria. La sua è stata una partita totale, non solo in fase difensiva ma anche in fase offensiva e rispetto a Skriniar è un upgrade. Skriniar è un giocatore diverso, è più un marcatore, mentre Pavard non solo è un difensore centrale ma anche un terzino. Ha piedi diversi e di conseguenza ti dà opzioni diverse ed è incastrato perfettamente in questo 3-5-2. Poi i numeri per lui parlano chiaro, è uno che ha il 93% di dribbling fermati, ha lo 0.73% di falli fatti in 90 minuti ed è un giocatore che non perde mai un duello. Quindi la caratura del giocatore è lì e chi pensa che sono troppi 30 milioni, beh, non conosce la carriera di Pavard e non vede come gioca l'Inter. Per cui grande acquisto da parte nostra, poi vedremo quello che succederà da qui a maggio, ma fino ad oggi Pavard non ha sbagliato una partita e nelle grandi sfide è sempre stato uno dei migliori in campo. Parlano i fatti. Detto questo ragazzi, sempre forza Inter, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, seguite la pagina per altri contenuti.